Buongiorno, il mio nome è Flavio Sangalli, sono responsabile della società DeviceLock Italia, che come società siamo presenti ormai da qualcosa come 6 o 7 anni, ma dall'anno scorso, da settembre, siamo operativi come abbiamo costituito la società praticamente in Italia. DeviceLock si occupa fondamentalmente del settore data leak prevention, quindi protezione contro la possibile fuga accidentale oppure dolosa delle informazioni dall'interno di un'azienda. Il prodotto che proponiamo è una suite, è composta da vari moduli, tra questi moduli ovviamente c'è anche la possibilità di creare delle policy ad hoc e personalizzate sull'utente finale. Questo soprattutto per quello che riguarda il contenuto dei documenti trasmessi sulla rete oppure attraverso i dispositivi collegati ad un qualsiasi computer della rete. La possibilità di creare, modificare, aggiornare e implementare queste policy di sicurezza ovviamente è poi in genere affidata a delle strutture di system integration che attraverso l'uso di regular expression e altre funzionalità interne al prodotto permettono di rendere, passare dalla soluzione base di policy ad una soluzione direi sempre più sofisticata. Direi che questo è l'aspetto fondamentale per quello che riguarda il content management di questo prodotto. riassumendo brevemente quello che fa il prodotto, controllare e gestire tutte le periferiche e il flusso di informazioni dall'interno verso l'esterno attraverso le periferiche, attraverso le comunicazioni di rete e attraverso il controllo del contenuto dei documenti. Credo, spero di essere stato abbastanza veloce, ringrazio e porgo i migliori saluti a tutti quanti. Arrivederci.